...sono 700 durante l'inverno, quindi ci si conosce tutti e c'è questa comunanza e questa vicinanza. E' proprio lo sgomento e il senso di frustrazione che ha portato in tutti i cittadini di aver perso il punto di riferimento, il faro. L'uomo che in 10-15 anni aveva trasformato da Ceroli e questo fatto che non sia ancora stato trovato né il colpevole né soprattutto il movente per questo omicidio è chiaramente un fatto che lascia sconvolta la comunità, una comunità che devo dire ha reagito all'inizio con molto orgoglio. E che adesso aspetta... Puoi rispondere? No, no, chiedo scusa perché poi siamo tutti in diretta. Ha sconvolto questa cittadinanza che in questo momento è come se avesse voglia di riprendersi e di riprendere la vita di tutti i giorni e quello soprattutto che ci comunino loro, ma se non esce il colpevole, non esce il momento è come se fossero rimasti in catalessi quindi avrebbero bisogno di questo slancio ulteriore sulla scorta di quello che ha insegnato il loro sindaco in questi anni di andare avanti, di portare avanti appunto il nome di Acciaroli e questo equilibrio che si era creato in questo piccolo borgo marinaro tra l'ambiente e la pulizia del mare e anche questo turismo che non era proprio un turismo di massa ma che contemperava appunto le esigenze anche ambientali del posto. Un turismo di nicchia. Volevo dirti che questo è un posto tutto sommato dove è stato anche ricettacolo di Maravitosi qui c'è stato un esponente di spicco dell'Andrangheta Cosentina, Muto, che più di me che lavora da anni anche in Carabria conosce bene questi aspetti e in più non era propriamente così come può sembrare una città tranquilla forse dal punto di vista dinamico probabilmente però sotto c'era un fuoco che alimentava altre situazioni a che cosa a tuo avviso si può legare questo omicidio indipendentemente dal fatto che oggi la vita dei primi cittadini diventa difficile perché abbandonati dallo Stato e da questo Stato? Io posso dare una testimonianza che al di là del fatto che faccio il giornalista io diciamo i miei genitori hanno una casa qui da 30 anni quindi sono di casa qui e posso raccontarti che la trasformazione del paese soprattutto del borgo marinale di Acciaroli negli ultimi dieci anni è stata molto prorompente soprattutto negli ultimi due anni e devo dire la verità indipendentemente dalla morte del sindaco mi ero ripromesso io poi faccio il giornalista sportivo nel momento in cui fossi ritornato in redazione a Salerno avrei voluto fare questo pezzo di come era cambiata soprattutto l'ultima estate di Acciaroli questo ripeto prima che venisse ucciso il sindaco perché? Perché si assisteva come a una doppia vita in questo paese una vita che fino a un certo orario della giornata era diciamo fatta dobbiamo dire un anzitutto una cosa che Acciaroli prima era un posto dove venivano le famiglie con i bambini piccoli che li portavano a mare negli ultimi anni e soprattutto nell'ultimo anno c'era una doppia vita la mattina si andava a mare e soprattutto si aveva la possibilità di inquadrare il piazzale del porto la sera dopo la mezzanotte per il fatto che hanno cominciato attività imprenditoriale prima non c'erano bar, ristoranti, discoteche era totalmente cambiata e le voci dei paesani di chi quindi conosceva il posto raccontavano sempre di più di un clima invivibile che si viveva soprattutto di sera ora questo fatto che ci siano delle attività imprenditoriali ha chiaramente portato un benessere anche ad Acciaroli ma il fatto stesso che alcune attività imprenditoriali siano finite nelle mani tra virgolette di stranieri quindi di persone non del posto aveva già provocato un po' con la rabbia dei paesani ma non tanto per la gelosia del fatto che ci fosse un imprenditore quanto che avessero portato un nuovo giro tra virgolette di frequentatori di turisti che magari avevano esigenze o portavano cose diverse senza andare troppo per girarci intorno un film inquietante esatto senza aver girarci intorno si respirava di legalità esatto soprattutto diciamo tra gli adolescenti e i ragazzi c'era questo uso di sostanze stupefacenti che comunque aveva portato questo e non solo attività imprenditoriale soprattutto di alcuni personaggi che hanno cominciato ad acquistare dal bar al ristorante ad aprire anche palazzi ed edifici direttore del napoletano e non sono diciamo questo chiaramente non possiamo metterlo in relazione all'omicidio del sindaco ma è un fatto storico che alcuni imprenditori di alcune zone particolari abbiano cominciato ad avere degli interessi e quindi se è meglio di me le indagini hanno più strade e nessuno può essere trasformato certo ma se è meglio di me che nel momento in cui magari diciamo un'attività anche malavitosa inizia a mettersi come residenza in un posto crea la dipendenza comincia da una cosa si può cominciare dalla droga poi può allargare al giro dell'imprenditoria poi comincia ad acquistare edifici e quindi anche l'ambiente le persone che frequentavano questo posto negli ultimi anni avevano portato a un cambiamento soprattutto quest'anno molte le lamentele c'era addirittura gente che la sera non scendeva più a un certo orario giù in paese perché si assistevano quotidianamente non quotidianamente ma quasi la sera arrisse sul porto gente che ha la barca al molo che lamentava di persone che magari andavano a disturbare e queste attività diciamo un po' collaterali io sono stato ospite anche di qualche trasmissione sportiva insieme al sindaco Vassalo qualche volta è capitato l'ospita eppure io una volta ancora non era sindaco quindi può realmente essere anzi totalmente estraneo dall'uccisione può essere coinvolto in un giro di rifiuti perché non abbia accettato pare almeno queste siano le regole della Camorra che se un personaggio una persona qualsiasi che purtroppo debba essere presa nel mirino della Camorra si è sparato in faccia sia un omicidio di rispetto guarda io sinceramente da questo punto di vista non che non voglia risponderti come sai io sono un giornalista sportivo e mi sono trovato prestato esatto diciamo che veniamo entrambi sì sì poi dicono giusto per fare una parola dicono che i giornalisti sportivi poi siano quelli più capaci di riciclarsi perché comunichiamo meglio non lo so non lo so perché forse però diciamo io da questo punto di vista onestamente non saprei risponderti so che il sindaco era una persona molto interventista una persona che affrontava di petto tutto e tutte le problematiche ed è chiaro e mi sembra riduttivo dire che il posto di Acciaroli fosse un posto nel quale la Camorra che ha interessi nei paesi di Mitrofi non fosse non dico direttamente ma almeno indirettamente è arrivata anche qui perché con tutta la forza la capacità di Angelo Vassallo e devo dargliene atto perché è così di aver preservato questo posto rispetto a altre dalle infiltrazioni qui addirittura c'era il crocevia di Andrangate e Camorra non presenti sì diciamo che si sa in paese che comunque c'erano persone che magari mi hanno andato come si dice al confino persone che durante l'inverno venivano a svernare tra l'altro però queste sono voci che non sono confermate non possiamo confermare certo non possiamo confermare anche quest'estate anche quest'inverno c'era stato qualcuno che era andato al confino tra l'altro in un pezzo di racconto che ho fatto io un mese fa ho raccontato di un incontro avvenuto su una spiaggetta qui vicino quando un personaggio è sceso da una barca e c'erano delle persone che lo aspettavano intorno e si è assistito a una sorta di riunione non si sa a che fine ma sembrava abbastanza carbonara quindi i sospetti chiaramente questo lo può confermare più la procura ci sono chiaramente dirti adesso che cosa abbia portato e chi soprattutto abbia portato ad uccidere il sindaco di Acciaroli è stata una provocazione no no ma io l'ho capito però no certo certo e chiaramente io non credo che però sia stata legata diciamo alla vita privata del sindaco Angelo Vassallo a questione familiare scusi parliamo di vita pubblica esatto quando parliamo di isolamento dei sindaci lo diciamo perché oggi purtroppo lo stato non è dietro il sindaco anche perché diciamo dobbiamo ricordare a livello di cronaca il sindaco comunque si era lamentato che nell'ultimo anno su tutti i controlli diventa un eroe adesso non mi coinvolgere lo so non c'è molto più da dire per la verità questo è vero allora il giornale il giornale è presente qua alla città ormai vi siete presi gran parte dell'editoria del consenso ovviamente della provincia e quindi la città è anche presente qui con il suo carisma insomma con la sua forza redazionale la città è in grande sviluppo qual è la ricetta di questo giornale al di là dei grandi imprenditori quindi vicino all'Espresso Repubblica quindi un gruppo editoriale ha anche la sua funzione riuscire a trasmettere questa idea imprenditoriale trasformarla in un fatto redazionale poi in un fatto di espansione sul territorio come giornale come diffusione io ti posso dire soltanto che come missione è quello che magari dall'inizio da quando è stato fondato il giornale poi da quando è stato rilevato dal gruppo L'Espresso comunque è una garanzia avere un gruppo editoriale che gli dà certo io credo che la missione sia proprio quella di stare come dice anche quotidiano di Salerno e provincia essere vicino a tutte le realtà anche perché la provincia di Salerno è una delle più grandi d'Italia ha 158 comuni il fatto di riservare pagine anche alla provincia non soltanto alla città ma capillarmente dividendola nelle varie zone perché si va dal nord dell'agro fino qui al Cilento e ancora di più inoltre averla divisa e soprattutto seguirla quotidianamente con molte pagine che raccontano appunto la realtà che è anche un modo per cui la comunità riesce a essere rappresentata o a rappresentare i propri bisogni i propri interessi quotidianamente su un giornale sia forse questo il segreto diciamo del nostro quotidiano però anche se hai lavorato per molti anni lavori nella redazione quindi hai cucinato i giornali quando ancora non erano online insomma e il tabloid è anche una grande riuscita l'impaginazione gustosa è il segreto sì penso senso di sì oltre al senso compiuto degli articoli certo il restyling anche l'appunto detto molto bene anche il restyling dal punto di vista del formato delle pagine credo sia anche questa una forma di successo anche perché ad esempio l'ultima l'abbiamo cambiata un anno fa dopo una ricerca di mercato anche per seguire le esigenze appunto del mercato e del lettore che chiaramente il lettore diciamo del quotidiano in sé adesso viene subistato comunque si sono le televisioni online quindi innanzitutto devi dargli una maniera diversa per poter consentire di vendere il giornale e quindi di acquistarlo ma anche nel formato questi articoli magari meno grandi magari prima c'erano quelli si chiamavano articolesse lunghissimi infiniti invece più pezzi ma magari di un corpo più piccolo quindi un po' meno lunghi però che raccontano quindi anche di più è meglio dando subito la notizia al lettore in epoca di lettura online quindi del trionfo virtuale anche della facilità stessa con cui il cittadino può accedere al sito e leggere un giornale la carta stampata rischia? io credo che la carta stampata rischia però credo che il giornale se è fatto bene qualsiasi giornale non stiamo parlando della città abbia una sua funzione abbia un suo interesse e quindi non possa rischiare e che quindi possa essere sempre acquistato dall'edicole è chiaro che se noi vogliamo dare la notizia che magari già è conosciuta è stata conosciuta dal mattino dal pomeriggio perché ci sono le televisioni ci sono i siti web è chiaro che perderemmo in copia se noi quella notizia la riusciamo a sviscerare in maniera diversa è chiaro che il giornale rimarrà sempre un momento anche di critica anche di approfondimento il gusto dell'inchiesta che magari non te la può dare un sito online o magari il servizio televisivo che per forza di cose deve essere ridotto in pochissimi minuti noi abbiamo un problema e chiudiamo ringraziandoti sempre per la disponibilità mentre l'Italia è il paese rischia ovviamente la carta stampata di essere ridimensionata dalla lettura virtuale abbiamo anche un grosso problema che l'italiano è quello che soprattutto in modo particolare è quello che regge di meno il meridio non si legge è inutile che ci prendiamo in giro e quindi ci si informa poco ci si informa poco ed è una cosa davvero magari le nuove generazioni sono forse un po' più informate hanno questo maggiore interesse però diciamo le nuove generazioni sono cresciute già con il sito online o con la televisione quindi al giornale non ci arrivano proprio quelli che magari prima acquistavano il giornale magari invece che hanno una certezza non lo acquistano più e questa è una carenza importante poi alla fine tra i problemi del nostro sud non possiamo lamentarci se anche la lettura quindi la cultura e anche il modo di voler conoscere realmente la notizia indipendentemente dalla presa di posizione è un fattore deterrente e chiaramente ci fa rimanere arretrati anche perché poi soprattutto nelle piccole realtà nelle piccole province o città come Salerno anche più piccole magari alcuni giornali non voglio essere esso critico comunque diventano poi il megafono di quella di quell'altra parte politica si passano più i comunicati stampa del presidente della provincia piuttosto che del sindaco o dell'onorevole del consigliere comunale che invece approfondire quella notizia non è affare da passacatta e poi hai visto tu di recente è uscita online taggata tra le altre cose una polemica sei giornalisti salernitani sono una chiavica insomma rudendo anche tra le altre cose e dicevo ma alla fine si parla tanto di casta ma si erano taggati tutti i personaggi che poi fanno parte della casta cioè non è possibile oggi cambiare questo progetto di essere informatori intanto levantosi dall'albo più che dall'albo diciamo da non far più parte si affreddo io penso una cosa che il giornalista non debba essere il giornalista non è detto che sia scritto per forzarla non è quello che ti fa essere giornalista nel fatto di aver fatto l'ordine l'ordine fondato da Mussolini ma dirti la verità adesso dirò una cosa proprio brutta però diciamo io la penso soprattutto adesso ci sono tante scuole di giornalismo adesso non voglio entrare nel merito io non ho fatto la scuola di giornalismo ma non è questo noi veniamo dalla gare io penso che il giornalista è quello che cammina a me così mi ricordo e poi così quello che consuma la suola delle scarte il giornalista non è quello che per forza ha il tesserino anche se devo dire che purtroppo adesso vedo tanti ragazzi che magari vogliono andare a queste scuole di giornalismo non vogliono parlare contro ma quella scuola di giornalismo non potrà mai formare un vero giornalista perché il vero giornalista secondo me è quello che si forma tutti i giorni vivendo o in redazione o vivendo per strada confrontandosi con quelle non è il fatto di saper scrivere perché possono esserci persone che sanno scrivere benissimo in italiano e non possono essere giornalisti il giornalista è quello che appunto il cronista lo dice la parola il cronus è quello che racconta la storia quello che vede i fatti e li racconta e chiaramente magari li vedrà con gli occhi suoi deve cercare di guardarle in maniera più obiettiva possibile ma è quello che deve fare quindi può cambiare la metodologia della diffusione della notizia ma la raccolta della notizia è sempre tra la gente grazie prego grazie a tutti grazie a tutti